Ministro del Bruccoleri, ritorno a Marsala, lei conosce bene la piazza di Marsala, ha dei belli trascorsi e un buon ricordo anche da parte della tifoseria. Come mai ha sposato il progetto Marsala? Io penso che è un progetto interessante, un progetto a 360 gradi con delle persone serie. Come ha detto i suoi colleghi, negli ultimi anni penso che ci sono state delle grandi umiliazioni, perché penso che Marsala nel sociale, nella vita non merita questa umiliazione ai calcisti. Rilanciare il calcio a Marsala non è un'impresa facile, per riportare entusiasmo è difficile, però noi faremo tutto, faremo l'impossibile per poter creare di nuovo l'entusiasmo, per ridare di nuovo l'ustro, calcisticamente parlando in questa città, perché già essere Marsala è un orgoglio. Ecco, ha avuto già un buon riscontro con la parte dirigenziale, con cui abbiamo voluto vedere in queste settimane che è nato un buon feeling. Da parte della tifoseria, da quello che abbiamo compreso, c'è anche un supporto a questo progetto. Tutto fa ben sperare che si possa arrivare a una buona convivenza. Guarda, Marsala per me è stato sempre, ha avuto sempre il mio cuore, un occhio di riguardo, perché io inizialmente vivevo a Marsala, per cui già ero inserito nel tessuto sociale di una città meravigliosa. E come dicevo prima, è una città che merita, merita tanto che non è soddisfazione. Come ho detto prima, già essere marsalaese è un orgoglio, perché Marsala, basta dire dove sei di Marsala, conosciuto tutto il mondo, per cui un marsalaese già si deve sentire ricco internamente di vivere vivo in queste città. una città bella. Certamente lo sport è fondamentale. Tanti tifosi che sono amareggiati, delusi, umiliati, non è facile riportarli di nuovo. Noi ci faremo il possibile per riportarli di nuovo allo stadio, dando possibilità a queste città di portare gente seria al posto giusto dove merita e cercare in tutti i modi di poterli a fare risalire al calcio. Specificiamo anche che il progetto non è un progetto a breve durata, ma è un progetto che vuole creare, un percorso che vada avanti nel corso dei prossimi anni. Sì, ma ci stiamo vedendo che c'è un problema della categoria, per cui fare mercato in questo momento nell'Interlande non è facile, perché vicino ci sono tante squadre di eccellenza, di categorie superiori, per cui il mercato è un po' difficile. Però chi deve sposare questo progetto deve essere prima uomo e più calciatore. Questa è la cosa più importante. Certamente partiremo facendo tutto da zero, per cui partire di sana pianta in un progetto non è una cosa facile, bisogna anche dare del tempo. Sicuramente il tempo è il giudice di questa nostra situazione. Grazie. 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 Grazie.